ciao ragazzi sono lo solito racetrack questa volta vi propongo una piccola playlist di 9 video si spera 9 video come 9 sono le missioni di dishonored ok però voglio farle in una maniera un po speciale innanzitutto metto in opzioni difficoltà vedete molto difficile ok indietro salva ok voglio fare senza storia senza niente proprio fare solo le missioni voglio farle tutte senza fare morti e senza usare la balestra con i narcotizzanti cioè praticamente voglio tramortire uno a uno i soldati della guardia insomma i miei nemici quindi in sostanza voglio fare finire il gioco molto difficile senza farmi neanche morto senza usare la balestra sarà molto difficile spero di farcela non l'ho mai provato accetta via andiamo in realtà questa è la terza volta che provo a farla ma ogni volta che faccio premo questo tasto mi succede qualcosa mi vado al desktop proviamo mangio salto tanto che la conoscete tutta la storia ok come mai l'esecuzione di domani ha richiamato tanto si tratta di corvo quello che ha ucciso l'imperatrice rapito sua figlia emily è un evento un evento sociale per gli arroganti venite a vedere il nobile lord protettore decapitato non sono meglio di noi che scommettiamo sui cani attenzione l'ala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scortate da un ufficiale della milizia l'attraversamento deve essere concordato con una settimana di anticipo questo è una mappettata quel bastardo sputtava sempre nel mio cibo ok vediamo se riesco porca noh arriva anche quell'altro non so se con molto difficile sono solo più attenti o se aumentano anche di numero o cambiano percorso è quello lì quando cacchio secco è praticamente impossibile ah grande bisci ancora attenzione l'esecuzione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento però i figli italiani autorizzati ok il bello di queste predis è che se ne sbaglio in tipo a metà e vorrei cominciare da capo ssssss tac bastardo vieni qua tor divertiti grazie uccidine ancora o lo faranno loro ok pistola che non ho bello attenzione tala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scordati da un ufficiale del tabellista vediamo ora che il cambio di su qua ssss Ok, monete, 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 biocchetta, semplicità apporta, ok, c'è uno, speriamo che non mi scambino, ah, ci ho fregato anche la chiave, va bene, lo imbosco qua, ok Attenzione, l'esecuzione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati Ah, ero la prima, ok, apriamo, chiediamo, deve essere tutta la prima, oi! Porca bestia, perché se ti piglia bene sto gioco? Oh, merda, non girarti, non girarti! Preso! Attenzione! L'ala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scordate da un ufficiale della milizia. L'attraversamento deve essere concordato con una settimana di anticipo. Sala degli interrogatori Ah, c'è nessuno, ah, non c'è Non c'è nessuno, ok Ok Quindi è normalo, più o meno tranquillo Ok Semberebbe muoto Checkpoint Questo ragazzi lo salto, io voglio una monetina, dammela Non c'è nessuno Questo perché è il minato il musia, però Ok, vada ragazzi Ah già Ehm Ah no, già aperta, ok La bomba Ehm Cosa faccio? Non ritira, mortina Dove cavolo devo andare? Ma mi sa che devo tornare indietro, eh sì, devo tornare indietro Questa sia qui Ehm Ecco, brutta lumaca Hai pattugliato il cortile? Ancora no, scusa Attenzione, l'ala di isolamento è interditta alle squadre di manutenzione Che non siano scordate da un ufficiale della milizia L'attraversamento deve essere concordato con una settimana di anticipo Porcaia E come cacchio facci a passare lì? Ehm Guarda Ehm 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 Così devo passare Qualcosa ti ha spaventato? Piantala Brutto schifo peloso Scusi Attenzione L'esecuzione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati Ma porca Eva, che giro fa stupendo per cambiare giro? Io vado via L'esecuzione di corpo è domani, vero? Sì, ma oggi deve essere già tutto pronto Non vedo l'ora che gli taglino la testa Non tutti amavano l'imperatrice, ma io sì Non so, ma la cazzata Merda, dai, eh Non so, ma l'imperatrice, ma l'imperatrice Non so, ma l'imperatrice Attenzione, l'esecuzione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati Non so, ma l'imperatrice Non so, ma l'imperatrice L'isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione Non so, ma l'imperatrice Porca iva Non so, ma l'imperatrice Non so, ma l'imperatrice Non mi ha visto ragazzi, che culo Fai me, dove sei? Oh! Oh! Cazzo non ti girare adesso eh Oppa Fregato pure te Adesso arrivo a correre mi sembra Perché mi sembra che lì devo metterci la bomba Facciamo il club dei dormiglioni Ok Allora se non sbaglio Quindi devo mettere la bomba si Quindi vabbè da adesso in poi Certo da dire non ammazzare nessuno Mi sembra che devo correre come un disperato Cinque Quattro Tre Due No Oh Oh che cazzo Eh salto Come se ce l'ho fatta Corri corri Cazzo non muoviste nessuno E vai E vai Cazzo però il video sta venendo fuori un po' lunghetto E mi sa che ci lasciamo qua allora Il primo l'ho fatto Ci vediamo al prossimo video Cazzo Cazzo Cazzo